Il 27 gennaio 1945 i soldati sovietici entrarono ad Auschwitz scoprendo un enorme campo di concentramento nazista sul cui ingresso campeggiava la scritta Il lavoro rende liberi. All'interno trovarono poche migliaia di prigionieri scheletrici, per lo più bambini, montagne di oggetti appartenenti a centinaia di migliaia di individui e macerie testimonianti il tentativo di insabbiamento delle attività perpetrate all'interno del campo dai nazisti. Oggi, a distanza di poco più di 75 anni, il 15,6% degli italiani ritiene che l'olocausto non sia mai avvenuto. La giornata della memoria è una ricorrenza che si celebra ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime dell'olocausto, lo sterminio sistematico di ebrei, rom, omosessuali e i prigionieri politici avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale. Sui numeri non ci sono dati certi, ma le stime più accreditate parlano di oltre 15 milioni di vittime, per la maggior parte ebrei, con cifre che si aggirano tra le 4 e le 6 milioni di persone. Numeri senza senso e difficili anche solo da immaginare. Per provare a rendere l'idea, neanche Roma, Milano e Napoli messe assieme ci arrivano. Chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo, scriveva Jorge Santayana. Eppure, nel mondo, il 2021, quindi neanche l'altro ieri, è stato l'anno con più episodi di antisemitismo dell'ultimo decennio, con oltre 10 casi al mondo, più del 50% dei quali in Europa. In Italia, lo scorso anno ci sono stati 226 atti di antisemitismo registrati, di cui 181 online e 45 dal vivo. Sono stati pubblicati 90 libri con contenuti antisemiti, di cui 25 ristampe e 65 novità, e il numero di siti con contenuti antisemiti rilevati superava le 300 unità. Quindi, diciamo che lo stiamo ricordando sì, ma forse un po' maluccio. Ora, non per voler rubare il lavoro ad Alessandro Barbero Enco. Ma possiamo tranquillamente dire che tutto nacque tanto tanto tempo fa, nell'Europa dell'antichità classica e poi dell'alto medioevo, quando il cristianesimo fu, inizialmente, una piccola setta, una costola del giudaismo, con il quale nacque un dualismo. Come testimoniato dalla presenza di patriarchi paciocconi con copricapi buffi, con lobby di maledire omosessualità e masturbazione, il cristianesimo prese poi il potere in Europa, con il popolo ebraico a doversi sobbarcare l'infamante accusa di essere responsabile della morte di Gesù. Gli anni passano e la comune presenza di piccole comunità ebraiche in giro per l'Europa, assieme all'astio latente nei loro confronti, li rende dei capri espiatori perfetti per accuse e persecuzioni di ogni tipo. Vengono perseguitati durante le crociate, vengono accusati di bere sangue umano, avere poteri magici ed avvelenare i pozzi per spargere la peste. L'immagine del giudeo avaro ed attaccato al denaro nasce sul finire del medioevo, quando alle popolazioni cristiane venne moralmente proibito di prestare denaro. La chiesa condannava l'usura e vietava ai cristiani di prestare il famoso sterco del diavolo in cambio di impegno, preferiva convertire l'oro in pregiate finiture dei propri palazzi. E così questa attività diventò prerogativa degli ebrei e presto si diffuse il luogo comune del giudeo usuraio, accompagnato dalla famosa iconografia fatta di grandi nasoni e mani sfreganti stile mosca golosa. Gli ebrei diventarono automaticamente dei malfattori, economicamente dannosi e divinamente corrotti. L'odio nei loro confronti diventa folclore e genera cospirazioni e racconti paranoici che fungono da perfetta chiave di volta per superare cambiamenti e fasi di incertezza. L'antisemitismo diventa razziale, con lo sviluppo delle teorie suprematiste in un crescendo periodico che trovò il culmine nell'olocausto moderno. Eppure, nonostante la numerosissima documentazione prodotta nel tempo, sembra che il ciclo dell'odio si sia rimesso in moto grazie all'avvento di internet ed ha libera tutti alla produzione di contenuti indipendenti. Negli ultimi 15 anni, tra il 2004 e il 2020, la percentuale di popolazione italiana che pensa che l'olocausto non sia mai avvenuto è più che quintuplicata, passando dal 2,7% al 15,6%. Cifre simili anche a chi ne ammette l'esistenza, ma con cifre falsate. Ora, a me, così, a sensazione sembra davvero una cifra troppo alta e chissà la fluttuazione statistica a dove può arrivare. Però è innegabile che ci sia un divario importantissimo rispetto a 15 anni fa. E visto che i mass media non hanno cambiato poi molto la propria narrazione, così, a naso, i responsabili sono principalmente due. La memoria da pesce rosso e l'attività delle comunità online. La memoria da pesce rosso la intendo in realtà in senso molto più ampio, ovvero come il grado di conoscenza e comprensione di un determinato fenomeno, come ad esempio la presenza effettiva di ebrei sul territorio italiano, che noi sovrastimiamo tantissimo, come del resto tutti gli altri immigrati, ne ho già parlato in un altro video e che potete recuperare qui o in descrizione. Difatti, nonostante siano in realtà veramente pochissimi, per un italiano su 5 c'è un ebreo ogni 10 persone. Scarsa conoscenza che gioca in realtà un ruolo fondamentale nei nostri dati, perché l'Italia in realtà è uno dei paesi meno razzisti in Europa rispetto alla comunità ebraica. Se guardiamo infatti il confronto con altre comunità europee, appariamo sotto media, ed anche andando a sondaggiare quali siano le comunità immigrate che più ci danno fastidio, in realtà la comunità ebraica non è percepita come tra le più odiate. Altre conferme sullo scarso interesse e la scarsa rilevanza del fenomeno dell'antisemitismo per gli italiani ce la danno altre informazioni legate al peso dato agli atti di antisemitismo avvenuti sul territorio italiano. Per quasi due italiani su tre, gli episodi di antisemitismo sono casi isolati, che non sono indice di un reale problema, e solo un italiano su due ritiene che gli atti di antisemitismo avvenuti in Italia siano il segnale di una recrudescenza del fenomeno, mentre per più di uno su tre, invece, sono delle bravate messe in atto per provocazione o per scherzo. Questo perché, a mio modestissimo parere, è cambiato il modo di intendere il fenomeno dell'antisemitismo, ed è qui che entrano in gioco le nostre comunità antisemita indipendenti. Se prima l'odio antisemita era latente ma parte della cultura pubblica e quindi sistematizzato, diciamo, oggi la cornice nella quale si sviluppano le varie teorie antisemite sono le varie comunità complottiste ed antisistema, piano calergi, grande reset, protocolli dei savi di Sion e grandi e varie lobby ebraiche che controllano il mondo da un lato e parallelismo tra vittime della Shoah e vittime dei poteri forti costretti a vaccinarsi dall'altro. Una contrapposizione totale, distorta, ma che in un modo o nell'altra vede ancora una volta gli ebrei come grandi protagonisti e quindi nell'epoca in cui ognuno è libero di autoindottrinarsi come meglio crede nel buio della propria cameretta e non sui banchi di scuola, ognuno è libero di sviluppare varie sfumature delle più svariate teorie del complotto in modo da poter appioppare a qualcun altro i motivi della propria disperazione. I risultati? Per quasi un italiano su quattro gli ebrei controllerebbero il potere economico e finanziario e per uno su cinque gli ebrei controllerebbero i mezzi di informazione mainstream. Un dato che vi riporto in chiusura è che questi numeri si innalzano andando a campionare l'elettorato di destra dove arrivano ad uno su tre, poi si abbassano vertiginosamente andando verso il centro dove si arriva a meno di uno su dieci e poi ricominciano la salita andando verso sinistra dove si assestano tra il dodici e il diciassette per cento. Questo è tutto per oggi, come al solito vi ricordo che questa è solo la mia chiave di lettura partendo dai numeri, vi ringrazio per essere arrivati fino qui, spero vi sia piaciuto questo video, ditemi cosa ne pensate, secondo voi non siete d'accordo, se invece siete d'accordo e volete leggermi come vostro leader spirituale, iscrivetevi, lasciate un commento e vi lascio con l'ultimo commentino, ovviamente le fonti sono tu nelle descrizione, dimenticavo, comprate il mio libro Cascina Speranza, minchia che è autolunghissimo e ultima statistica, un po' per tutti. Scegliete voi se intenderlo come un monito, un riconoscimento o un'informazione evitabile e sciatta. Un italiano su cinque pensa che Mussolini sia stato un grande leader e che abbia commesso solo qualche sbaglio.